Buonasera a tutti e benvenuti. Questa sera nessuna puntata o nessun argomento in particolare, soltanto un augurio di buone vacanze a voi e alle vostre famiglie. Era il gennaio 2015 quando la trasmissione, rubrica, momento di approfondimento, chiamiamolo come vogliamo il fatto, iniziava i primi passi. Mi ricordo che il primo argomento era stato quello in merito alle esplosioni, agli sfratti in un appartamento di Milano dove un'arzilla nonnina aveva fatto saltare per aria mezzo condominio, insomma con problemi di affitto e tutto il resto. Da lì con cadenza praticamente quotidiana, salvo le feste o comunque alcune le vacanze, la trasmissione, la rubrica e il fatto ha continuato sino ad oggi. In questo momento e con questa trasmissione ci prendiamo tutti, credo un momento di pausa estiva, anche se l'estate deve veramente ancora iniziare. Un po' come tutte le grandi trasmissioni nazionali, senza e con tutto lo sequio a un porta a porta, piuttosto che a un matrix, piuttosto che a un piazza pulita, a un approfondimento, quello che volete voi. Però come tutte le grandi trasmissioni così si avvicinano al periodo estivo e salutano dicendo ci rivedremo poi a settembre, questo è anche l'auspicio che voglio fare io e che mi auguro di poter poi porre in essere rivedendovi a settembre con delle nuove puntate. Ho cercato da sempre di affrontare argomenti di vario genere a livello nazionale, a livello internazionale, a livello di economia, di storia, di filosofia, a livello sociale, a livello di cronaca, rosa, nera, gialla, verde, insomma con tutte le sfumature che vogliamo immaginare. Cercando il più delle volte di mantenere un atteggiamento generalmente critico, generalmente apolitico, quindi senza schierarmi con la destra, con la sinistra, con il centro, senza schierarmi in posizioni di qualunque genere da un punto di vista giudiziario anche perché la mia professione mi impone comunque inconsciamente un senso di garanzia per le sorti di tutti. Quindi abbiamo parlato anche di processi penali italiani particolari dove il taglio di questa rubrica è sempre stato quello di cercare perlomeno di comprendere le ragioni dell'accusa e le ragioni della difesa senza schierarsi con la folla inferocita che grida al ladro o all'assassino e che invoca magari la ghigliottina. Lo stesso da un punto di vista politico, ecco non si tratta di fare una rubrica che si metta a criticare il governo, non si metta a criticare l'opposizione, ma più che altro una rubrica che cerchi di spiegare alle persone comuni, a tutti, a me, quelli che sono fatti, argomenti, situazioni che molto spesso, non dico non siamo in grado di capire, forse magari non sono in grado di spiegarci o comunque sia, anche qui senza dare colpi a nessuno, diciamo che situazioni che forse meritano un maggior approfondimento. Stiamo parlando di iniziative magari legislative, di referendum, di scelte, di disagi, di polemiche, di contestazioni, anche in questo modo sempre con l'ausilio di cercare di rimanere un pochino non schierati da nessuna parte. Sapete però che è anche difficile nella vita e non è forse nemmeno bello stare a guardare e non partecipare comunque a una disputa qualunque essa possa essere. In questo caso, pur cercando, ripeto, di spiegare e di far comprendere, è ovvio che anche così con tutto lo spirito per rimanere imparziale una parte di me inconsciamente, emotivamente, psicologicamente è normale ed è giusto e ci sta. Si schieri forse un po' di più da una parte o un po' di più dall'altra. Diciamo che anche in queste situazioni ho cercato in ogni caso sempre di non farvelo capire, di non farvelo comprendere, proprio perché non è il senso di questa rubrica quella di cercare dei consensi o comunque di promuovere delle crociate nei confronti di qualcuno. Sono solo contento se il poco tempo che abbiamo impiegato però tutti i giorni possa essere servito, possa essere stato utile per tutti, per stimolare le menti di tutti voi a così valutare magari con occhio diverso tutto quello che ci sta attorno. Ripeto, l'augurio è quello di buone vacanze a voi, a tutte le vostre famiglie e l'augurio anche per me stesso perché fondamentalmente mi diverto e mi piace stare qui con voi, quello di rivedervi tutti a settembre. Grazie.